Eccomi qua ragazzi, eccomi qua. Allora, un salutone a tutti voi, felice venerdì a tutti. Allora, carta e pene ragazzi, regalone su YouTube. Noi la nostra previsione privata per quanto riguarda il gruppo privato già è in gioco, ma volevo fare una proposta di gioco su YouTube. Per me un grande regalone per tutti voi che siete iscritti al mio canale e mi seguite. Va bene ragazzi? Allora, video velocissimo perché devo andare via. Allora, in gioco dal 6 settembre, quindi da questa sera, ruota di Bari. L'ambata è 15, gli abbinamenti 69-87. Oppure, mettete in gioco la famosa lunghetta, 15-69-87. Come al solito, per ambo, terno e ambetto. Oramai sapete la moda degli ambetti, ogni estrazione ci sono gli ambetti, no? Quindi è una moda ormai. Va bene ragazzi miei? Volevo fare un video un po' più prolungato, ma purtroppo per mancanza di tempo faccio video brevissimo. Tanto l'importante non è la quantità, ma la qualità. Ok? Allora, questi sono i numeri. La previsione mi regalo sulla ruota di Bari, per chi vuole giocare. Faccio un grande in bocca al lupo al nostro gruppo in abbonamento, gruppo privato, con la nostra previsione. E ragazzi, che dire? Un abbraccio a tutti. Felice venerdì e che sia anche un venerdì fortunato. Va bene ragazzi miei? Allora, un grande bacione. Benvenuto sempre ai nuovi iscritti. Grazie sempre di cuore. E che dire? Ragazzi, sapete, chi mette in gioco le mie previsioni, sapete che dovete mandarmi poi lo scontrino su Whatsapp. Mi raccomando, lo ripeto anche per i nuovi iscritti. Il mio numero è 328-12-85-780. Ragazzi, questo è il mio regalone. E dire, buona fortuna a tutti e ci vediamo al prossimo video. Spero di poter fare video domani mattina. Allora ragazzi, ancora buona fortuna e al prossimo video. Ciao a tutti.